In tutto il tempo trascorso in casa nella mia intimità ho scoperto me stessa. Questi giorni mi hanno solo portato tranquillità perché ho ritrovato quei momenti sereni di cui tutti abbiamo bisogno per fare riposare la mente e l'anima. Le cose che mi mancano in questo periodo, mi mancano le mie amiche, i miei colleghi di lavoro, mi mancano i posti che frequentavo, le mie passeggiate ma soprattutto quelle persone felici che incontravo ogni giorno nel mio cammino. Ho scoperto che la vita è la cosa più importante e che tutto può essere imprevedibile. Per questo noi esseri umani dovremmo valorizzare di più la nostra vita. In questo periodo di pandemia non facciamo altro che ricordare la vita di prima, dimenticando però che prima eravamo stufi di essa per motivi insignificanti. Adesso darei qualsiasi cosa affinché tutto torni come prima. Ho imparato che devo valorizzare di più quello che ho, dare valore a qualsiasi opportunità, accettare le persone così come sono, con i loro pregi e con i loro difetti. In questo momento sto valorizzando quello che Dio ci ha dato perché credo e spero che con il suo aiuto tutto questo finirà. Restiamo in casa, sereni, perché tutto andrà bene.